salve gente e benvenuti sul canale youtube max california 86 per il video di oggi ho deciso di parlarvi di un film del quale avevo un po di hype fin da quando è stato annunciato e sto parlando di inside out 2 nuovo film pixar sequel di inside out uscito nel 2015 settimana prossima dovrei tornare con le live del format al max qualche chiacchiera sul mio canale youtube max california 86 ho contattato un ospite che deve soltanto farmi sapere se ci sarà o no e la live verrà confermata mercoledì alle ore 21 o un altro giorno un altro orario comunque non vi preoccupate vi terrò aggiornati su instagram con un post o una storia ora vi parlo di alcune curiosità legate a inside out 2 la prima riguardo allo sport praticato da riley in questo sequel inizialmente doveva essere il pattinaggio ma la pixar ha optato per l'ok che è uno sport più collettivo tra l'altro in una scena del primo film vediamo la protagonista bambina che gioca ad ok insieme al padre e alla madre la seconda curiosità riguarda il numero 28 indossato da riley che sta a indicare il 28esimo film realizzato dalla pixar nel film dovevano essere presenti anche altre emozioni come vergogna gelosia cinismo e senso di colpa ma poi sono state scartate perché avrebbero gravato troppo sul film rendendo meno godibile la fruizione da parte del pubblico in sala comunque vi parlo di inside out 2 dopo la sigla inside out 2 racconta il periodo adolescenziale di riley e quindi tutte le ansie le paure di questa nuova fase di crescita tutto sta andando per il verso giusto ma a un certo punto entrano in scena nuove emozioni che si impadroniscono del quartier generale riusciranno gioia rabbia disgusto paura a riprendere il comando facendo capire nuovi arrivati di chi ha più bisogno riley questo sequel arriva a quasi dieci anni dall'uscita del primo film side out 2 sta battendo qualsiasi record in casa pixar essendo arrivato in quasi due settimane di programmazione a 863 milioni di dollari di incasso non fatichiamo a pensare che questo film possa raggiungere se non addirittura superare il miliardo di dollari come incasso non si vedevano cifre del genere al box office per la casa di produzione cinematografica americana da un bel po di anni comunque potremmo vedere altre emozioni in un sempre più probabile inside out 3 ha annunciato l'arrivo di una serie spin off di inside out 2 entro il 2025 in inside out 2 ho apprezzato il doppiaggio italiano le nuove emozioni e il giusto mix tra umorismo e sensibilità nell'affrontare una tematica moderna invece quello che non ho apprezzato di inside out 2 riguarda alcuni aspetti dell'evoluzione interiore di riley che si sono verificati troppo velocemente consiglio la visione di inside out 2 se avete apprezzato il primo film e se siete fan della pixar il mio voto per questo film è un bel 8 quindi super approvato diciamo che dovendo fare un confronto ho apprezzato leggermente più questo sequel rispetto al primo film del 2015 se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale youtube max california 86 nelle prossime settimane nei commenti fatemi sapere se il film lo avete visto o no se vi è piaciuto o no e quale vi è piaciuta di più delle nuove emozioni in descrizione trovate i link ai miei profili facebook instagram twitter telegram nel quale trovate il mio gruppo max california 86 al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando non solo notizie sul cinema e la serie tv ma anche sui video che pubblico sul mio canale youtube max california 86 e tik tok nel quale pubblico video un po diversi ma sempre a tema cinema e serie tv un saluto e ad un prossimo video qui sul canale youtube max california 86 video un saluto Grazie a tutti.